Sono convinto nella pratica che la relazione non sia altro che un conflitto e la fatica di condividere con l'altro uno spazio, una passione è la fatica del conflitto adesso abbiamo la possibilità, e voi ne siete nella pratica un esempio di convivere con l'altro e l'incontro con l'altro, se è vero che prevede il conflitto, è sempre dinamico